ehi la buongiorno buona sera buona notte benvenuti al nostro canale io sono Allie e io sono Aria e tu sei su Allie Ami Channel oggi siamo qui per portarvi la nostra morning routine infatti le scuole e l'università è ricominciata quindi le nostre routine ormai si sono cristallizzate e ovviamente uscirà anche la night routine lunedì quindi dovete essere dolci assolutamente inoltre volevamo ricordarvi che oggi uscirà sul nostro fantastico sito www.lauricene.it un nuovo prodotto per le inbox ossia questa cover con la fragolina stupenda però ragazzi c'è anche per questo ottobre e questo novembre è veramente fantastica da mettere ed è super carina cioè le camere non sono mai fuori stagione quindi andate assolutamente a darci un'occhiata e andateci anche a seguire sui nostri altri social instagram, tiktok, alleauri.channel è idea di lasciarvi subito con il video buongiorno a tutti e benvenuti nella mia morning routine inizieremo appunto con la mia a Verona e poi Auri presenterà la sua morning routine invece a Milano quando sono le 6.35 tutti i giorni dal lunedì al sabato suona la mia sveglia, mi devo alzare con molta gioia di vivere dal mio bellissimo letto e mi trascino letteralmente però prima un salutino alla fantastica Leila in bagno dove mi lavo i denti, mi pezzo i miei capelli attuo un attimino la mia skin care mattutina che non è composta da tantissimi step perché la mattina appunto ho i tempi molto tirati e la voglia molto carente diciamo che passo se non mi sono struccata bene la sera prima a struccarmi un po' meglio poi mi passo il tonico che è questo qui che ci è arrivato in una goodie box e è veramente fantastico, ha un profumo meraviglioso poi passo invece alla crema idratante questa qui della Venus che ha un odore di pesca strabiliante e poi ai prodotti per il contorno occhi e dopo la skin care si passa ovviamente al make up, è molto molto base metto questo fondotinta di puro bio poi lo fisso appunto con la cipria di Anastasia Beverly Hills faccio un po' di contouring con questo bronzer di Smashbox e poi procedo con un po' di blush di RVB Lab e metto un po' di illuminante come punto luce appunto all'interno dell'occhio non metto il mascara perché tecnicamente mi sono fatta la laminazione e un po' di spray fissante per fortuna ho l'abitudine di scegliere l'outfit la sera prima perché vedete sempre la mia faccia molto sveglia cambio appunto outfit, questo qui è completamente di rehearse ma poi ve ne parleremo successivamente questo maglioncino fatto a polo col colletto e un paio di jeans a zampa però mi sono prima messa subito lo smartwatch 3.0 che si potrebbe anche tranquillamente utilizzare per dormire perché fa anche un track del sonno però io appunto sono più comoda a toglierlo la sera, metterlo in carica e rimetterlo la mattina poi sono scesa appunto per andare a fare colazione grazie al cielo papà ci fa sempre trovare i prodotti per la colazione fuori con la tovaglietta io riempio sempre la mia borraccia di alleauri che porto a scuola e poi scelgo sempre la merenda appunto da portare a scuola solitamente un pangoccioli poi faccio colazione, non mangio nulla di particolare la mattina perché già per me è tanto fare colazione solitamente mangio dei biscotti come le gocciole o magari dei ferri di cavallo dei biscotti con del cioccolato stamattina ho mangiato delle dita di drago o della milka mentre lo yogurt che avete visto sulla tavola lo mangio solo la domenica quando ho un po' più di tempo e poi appunto mi dirigo giù per mettermi le scarpe giubbino e andare a scuola solitamente mi accompagna una mamma e papà in macchina e poi ho altri 6-7 minuti da fare a piedi per raggiungere la scuola che è in centro e appena finisco la mia routine appunto si divide in due strade il lunedì, il mercoledì e il giovedì devo andare a danza e quindi mi dirigo subito in ufficio dei miei genitori qui c'era una panoramica del mio fantastico outfit quindi appunto questi tre giorni alla settimana vado in ufficio dei miei genitori e mi preparo il pranzo a disposizione ho un microonde quindi solitamente mi preparo qualcosa la sera prima in questo caso avevo un panzerotto che avevamo fatto noi la domenica e lo scaldo appunto al microonde per prepararmi il pranzo poi mentre mangio dato che ho circa un'oretta prima di dovremmi preparare faccio dei compiti per buttarmi avanti guardando un episodio di qualche serie tv era veramente delizioso questo panzerotto in alternativa mi porto un po' di insalata o del riso da cucinare appunto sempre a microonde e poi mi cambio per andare a danza ma vedere tutto in continuo nella night routine invece gli altri giorni della settimana quindi il martedì, il venerdì e il sabato torno a casa appunto o con la mamma, con la macchina o con il papà o solitamente con l'autobus e appena appunto arrivo a casa corro subito a cambiarmi perché non riesco a stare con i vestiti di fuori appunto in casa e mi cambio, solitamente tengo o una tuta di Oceans Apart o qualcosa comunque di molto comfy poi qui ero vestita tutta di lilla quindi già ero veramente meravigliosa Ali ricordati sempre di spegnere le luci quando esci dalle stanze scendo subito in cucina per iniziare a prepararmi il pranzo in questo caso mi sono fatta i tortellini perché quando mangio a casa, cioè veramente pochissime volte alla settimana cerco di mangiare appunto qualcosa che sia cucinabile e non semplicemente scaldabile al microonde ecco poi questi tortellini di rana sono veramente meravigliosi ci mettono letteralmente 3 minuti a cuocersi e poi preparo appunto la tavola che per me è una semplice tovaglietta con sopra delle forchette la caraffa e i tovaglioli in ogni caso mangio sempre da sola quando sono appunto a casa di solito mangio anche un po' d'uva dopo la pasta e guardo una serie tv in questo caso stavo guardando Making the Cut su Amazon Prime Video e quando la terminerò penso che guarderò la seconda di Fate comunque era veramente un pranzetto completo e molto molto buono e poi ovviamente la parte più brutta ossia sistemare la cucina e lavare i piatti o metterli in lavastoviglie, passare l'aspirapolvere e poi mi dirigo in camera dove inizio a studiare ma vedrete il continuo nella night routine Ehi là, benvenuti nella mia morning routine verso le 8 barra 8 e un quarto mi devo alzare e sì, ho una voglia di vivere sotto i piedi e la prima cosa che faccio è ovviamente aprire le finestre per capire anche la temperatura se piove o se è una bella giornata fuori oggi era una bellissima giornata e per prima cosa faccio anche il letto tra l'altro io non sono abituata ad avere il letto matrimoniale ho sempre avuto il letto singolo quindi è un po' più laborioso rispetto al singolo ma ovviamente è molto più comodo e poi mi dirigo verso a cambiarmi perché io ragazzi quando sono in casa e non sono a letto devo ovviamente avere la tuta in questo caso ho indossato una tuta di Oceans Apart fantastica e apro le finestre anche nel salotto barra cucina ed è una cosa che appunto mi piace fare sempre la mattina e poi per prima cosa faccio anche colazione perché ragazzi la colazione è importantissima e solitamente è molto basic ovvero un caffettino e le mie fantastiche gocciole dark se a me piacciono molto di più le gocciole dark rispetto a quelle normali l'ali le deteste infatti quando verrai qua a Milano dovrò comprare quelle classiche e appena finito sistemo tutto e lavo anche la tazzina che ho utilizzato per la colazione e dopo aver sistemato tutto per la colazione mi dirigo in bagno dove appunto mi lavo i denti è una cosa che solitamente faccio anche quando appena mi sono alzata che questa mattina mi sono dimenticata di riprenderlo e sì sono un disastro col dentifricio perché ci vuole un pochino affinché mi attivi alla mattina e poi solitamente avendo le lezioni al pomeriggio mi faccio una bella doccia o la faccio alla mattina o la faccio alla sera solitamente sto prendendo l'abitudine di farla alla mattina e metto anche questo fantastico balsamo di brochet perché i miei capelli evidentemente l'acqua di Milano non la fanno gestire quindi sono un po' un po' orribili e una volta asciugatemi i capelli mi dirigo in camera dove faccio un po' di cosine guardo ovviamente l'agenda di Ali Auri per vedere cosa mi sono scritta di fare solitamente devo sistemare gli appunti del giorno prima altrimenti non avendo molto tempo il pomeriggio per collezione mi è soltanto un po' difficile e quindi solitamente passo un paio di ore un paio di ore e mezza anche e sistemo l'iPad guardo le cosine anche con la fantastica P6 Pro e sistemo gli appunti solitamente in maniera digitale anche se a volte in maniera anche cartacea ma oggi ho fatto solamente l'iPad e poi verso mezzogiorno mi dirigo a fare la borsa ovviamente ovviamente all'interno della mia borsa di Auri metto l'iPad che è indispensabile l'agenda, l'astuccio ovviamente il porta post-it di Ali Auri quello portatile e i cavi perché fortunatamente all'interno delle aule c'è il modo per ricaricare e poi questa volta iniziavo anche in spagnolo quindi ho portato il quaderno di Ali Auri in questo caso con la copertina azzurra e puntinato al suo interno e la borsa è pronta così poi non ci dovrò più pensare e stamattina in realtà sono andata a lezione alle undici e mezza perché iniziavo spagnolo quindi non ho pranzato e ho scelto subito l'outfit dovrei farlo la sera, lo so però non ci riesco l'ho sempre fatto alle superiori anche la mattina solo che qua quest'anno sono messo male con gli altri non lo so, ci penso un sacco e quindi questa mattina ho messo i jeans di Zara la maglietta nera di Zara questo blazer che mi ha dato la nonna però poi ho cambiato i dati e mi sono messo il giubbino di pelle perché faceva troppo caldo per quel blazer tra l'altro questo giubbino di pelle è della mamma quindi il blazer della nonna giubbino di pelle della mamma e poi mi trucco al volo se le mie transition fanno un po' pena però insomma ero veramente ritardissimo e ho messo queste fantastiche scarpe sono i mocassini platform che questo anno andranno di modissima io ce l'ho già da due anni quindi ho anticipato la moda ed esco di casa sempre e solamente in ritardo cioè ormai è il motivo della mia esistenza per andare all'università devo prendere la metro e oggi avevo un po' di lezioni in una sede e alcune nell'altra tra appunto alcune lezioni sono anche riuscita a prendermi un pezzo di pizza per mangiare perché avevo veramente pochissimo tempo ma fino alle 4 era un po' difficile tirare questo ad esempio è un'aula è veramente gigantesca e super bella e poi ho fatto un salto anche in libreria per prendere il libro di spagnolo un bacione gli outfit che avevamo in questo video sono del brand Rioas ci è arrivato un pacchettino adesso vi facciamo vedere che cosa c'era al suo interno la prima cosa che vi faccio vedere è questa camicetta bianca un po' da nonnino l'abbinerò con dei jeans scuri possibilmente di Zara e ha il colletto appunto con questa fantasia che sembra una nuvoletta una questa di Rioas che sicuramente indosserò per l'università è questa camicetta bianca un po' da nonnino mi sa ma da nonnino felice io sono molto felice sicuramente la metterò dentro e ci metterò un blazer sopra e ovviamente ha questi bottoni sì tipo fatti a perle molto molto carini io invece ho preso questa magliettina crop top ovviamente in palette con i bottoncini secondo me è super carina ad abbinare con un paio di jeans poi appunto parlando sempre di jeans però non di jeans ho preso una gonna che so che in estima della moda ha spaccato questo modello appunto una gonna di jeans ne avevo già un'altra e l'ho usata sempre ma poi hanno un tessuto meraviglioso molto molto fatto bene appunto poi ho abbinato un po' inaspettatamente ma che mi piace veramente tanto la gonna di jeans di Rioas con questo magliettino che appunto ho provato prima secondo me anche con un paio di Dr. Martens fa proprio autunno io invece ho preso dei jeans che secondo me cioè sono stupendi sono leggermente grandi ma vabbè dai con una cintura si può risolvere tutto sono dei jeans a zampa con i bottoni qui davanti le due tasche il logo sui bottoncini ecco qui uno degli outfit con Rioas questi sono i jeans sono veramente meravigliosi a zampa tra l'altro si possono anche mettere così come la moda appunto attuale induce a fare per la parte sopra ho abbinato con questa fantastica magliettina crop top azzurra mega in paletto top si anche questo maglioncino appunto materiale mi è veramente scioccata perché è super morbido è questo maglioncino con lo scolla V che mi piacciono molto io ve lo giuro è morbidissimo davvero super comfortable e poi è abbinato è davvero a tutto in realtà pensavo che fosse un po' più freddo però mi piace un pochino tanto quindi mi sa che è sgarro io invece ho questo maglioncino che ha le maniche da principessa ed è di questo colore con questo scollo a V ovviamente qua ci va sicuramente una collana io sto usando quella di Alliauri e sicuramente da abbinare con un paio di jeans o anche pantaloni neri fa la sua figura io invece ho preso sempre quest'altro maglioncino che è appunto la fantasia a righe bianche e blu che secondo me sono super carine si è tipo sempre un po' marinaio esatto molto probabilmente l'avete visto tra la loro scuola questo è l'altro maglioncino che ho preso da Rioas che è davvero meraviglioso ha righe bianco e blu secondo me ci stanno davvero d'incanto insieme bello al tatto quindi non vedo l'ora di metterlo per andare a scuola poi un'altra cosa che ho comprato che questa qua magari è poco per andare all'università è questo vestitino che io ho pensato perché per le cerimonie che non abbiamo da mettere sotto con una maglia collo alto nera il problema di questo vestito è che mi è gigante però è veramente bellissimo mi dispiace da morire i tessuti di questo sito sono veramente ottimi anche perché è proprio un vestito da mettere in inverno quindi sarebbe stato perfetto per il periodo natalizio poi c'è appunto questo vestito bianco che è super bello l'unico problema è che mi hanno dovuto metterci una molletta come gli abiti la sposa per stringere magari cercherò di chiedere alla nonna se può rimpicciolirlo oppure da mettere molto minuto dove ci chiamiamo Ali Auri poi io ho preso invece un vestito perfetto per il periodo estivo con lo scollo dritto lungo con un piccolo spacco e poi questo ultimo vestitino nero con la spallina un attimino spessa un piccolo spacco qui e se giri fa è un po' estivo ovviamente perché senza maniche ma anche con una magliettina bianca sotto può essere veramente molto valido anche per l'autunno e infine mi è arrivato anche un trench lungo un po' over veramente meraviglioso che sicuramente l'avrò abbinato l'ho anche già messo in questi giorni si è stupendo veramente mi sono da dio vi lasciamo tutto qui il link in descrizione il video termina qui speriamo tanto che vi sia piaciuto mi raccomando vi aspettiamo lunedì con la night routine vi ricordiamo che anche sono uscite il nostro fantastico cover per le inputs è entrato sul nostro sito tra l'altro le inputs vanno bene per qualsiasi dispositivo ci sono un sacco di colori io personalmente ce le ho appunto lì la metallizzate e adesso salutiamo 10 persone che hanno uscito il video precedente iniziando da Asia e Camilla un bacione Anna un bacione Alessandra un bacione anche a te Alessia un bacione Teresa un bacione grazie per la fanpage Rebecca D un bacione Moni un bacione anche a te Annalisa un bacione e per ultima Matilda un bacione anche a te ci vediamo con la night ciao ciao